Casa dei Cei Alle spalle di Via dell'Abbondanza, un tempo chiassosa strada commerciale di Pompei, una sorta di moderno e trafficato corso cittadino, si estende un piccolo quartiere residenziale composto di eleganti case aristocratiche. In questo quartiere, tra le varie dimore, è stata riportata alla luce la Casa dei Cei, forse di proprietà dell'omonima famiglia e in particolare di Lucius Ceius Secundus, candidato alla suprema carica di magistrato Pompeiano poco prima della distruzione della città, nel 78 d.C. Alla sua proprietà, sembrerebbero infatti richiamare le iscrizioni elettorali dipinte proprio sulla facciata della casa, caratterizzata da un grande e austero portale, accanto al quale, sul vicolo, è presente una banchina in muratura probabilmente destinata ai clientes, in attesa di essere ricevuti dal padrone di casa, magari per una riunione o raccomandazione. La dimora, forse meno ricca delle altre confinanti, diremmo di livello medio e borghese, conserva al suo interno, quasi gelosamente, affreschi dal gusto esotico che rendono di particolare interesse l'abitazione. La domus fu edificata fra il II e il I secolo a.C. a una pianta stretta e allungata, con al centro dell'atrio, a quattro colonne, la vasca dell'impluvio. Dopo il terremoto del 62 d.C., la casa viene quasi interamente ristrutturata, come oggi si conserva. Nella parte più interna della casa, la parete principale del giardino domestico ospita un grande affresco, raffigurante una scena di caccia condotta da animali selvatici disposti su più livelli. Vista dall'alto in prospettiva, oggi diremmo a volo di uccello, con lupi contro cinghiali, una tigre che rincorre degli arieti, un leone alle prese con un toro, mentre ai lati spaziano assolati paesaggi adiacenti il Nilo, con templi, statue sacre, devoti, animali del delta egiziano e gli scuri pigmei, anticamente considerati originari della parte più remota dell'Egitto, alle sorgenti del fiume. Queste scene possiamo trovarle, con minore vistosità, anche in altri muri di giardini pompeiani, allo scopo di ampliare illusionisticamente le dimensioni di questi spazi infiniti e, allo stesso tempo, di evocare una dimensione idilliaca e coinvolgente, quasi senza tempo. In questo caso, con ogni probabilità, il tema delle pitture potrebbe testimoniare un legame del proprietario della Domus con il mondo egizio e, in particolare, con il culto di Iside, il cui mito racconta le vicende della dea che recuperò le parti dello sposo, Osiride, ucciso e smembrato da Seth, che ricompose ridandogli una nuova vita attraverso le sue arti magiche, divenendo così la divinità dispensatrice di vita. Proprio per il messaggio di speranza di una vita oltre la morte, il culto di Iside, diffuso in tutto il Mediterraneo fin dal III secolo a.C., fu ampiamente praticato a Pompei, soprattutto dai ceti meno abbienti, e dove le era stato dedicato un tempio ritrovato quasi integro nelle sue parti e nelle sue decorazioni e un collegio ispirato alla divinità.